La notizia era nell'aria ormai da alcune settimane e l'ha resa ufficiale stamane un post pubblicato su Facebook. Si è conclusa l'esperienza di Andrea Colombino da direttore sportivo del Carbonia Calcio. È stata un'esperienza breve, durata una sola stagione sportiva, ma carica di mille emozioni, forti, uniche, forse irripetibili. Questo il suo breve messaggio di saluto alla squadra e alla città di Carbonia. Le vite di tutti noi sono caratterizzate da incontri, di arrivederci, di transiti, di addii. Certe emozioni però sono destinate a rimanere in eterno. Ed è questo che porterò dentro di me ricordi indelebili, persone, sguardi e parole, affetto. Ringrazio di cuore tutte le persone che mi hanno accolto e fatto sentire a casa. Non vi dimenticherò mai. È stata un'esperienza unica che mi ha cambiato, mi ha reso migliore. Questo grazie a voi. Grazie Carbonia. L'esperienza di Andrea Colombino a Carbonia, come già sottolineato, è stata breve ma intensa. Iniziata in una calda giornata estiva, ai primi di luglio 2020, è caratterizzata da mille problemi, ma anche da altre tante soddisfazioni e risultati andati sicuramente al di là di ogni più ottimistica previsione. Il 13 giugno scorso è calato il sipario sul campionato di Serie D e purtroppo le incertezze sul futuro del Carbonia Calcio non hanno creato i presupposti necessari per gettare le basi per una prosecuzione del rapporto tra Andrea Colombino e il Carbonia Calcio, oggi guidato dal presidente Stefano Canu. Ora le strade, come ha scritto Andrea Colombino, in poche righe, cariche di emozioni, si dividono, ma chi vive il calcio da tanti anni sa bene che un giorno, forse neppure molto lontano, potrebbero rincontrarsi. Oggi non resta che ricambiare ad Andrea Colombino il grazie che lui ha rivolto al Carbonia Calcio e alla città di Carbonia, perché quando in un percorso professionale e di vita si incontrano persone come Andrea Colombino non si può che rendere il loro merito per il lavoro svolto, per i risultati raggiunti e per il contributo dato perché si vivessero emozioni forti, uniche, probabilmente ripetibili.